5 pattumelle e poco spazio in casa, come faremo noi al centro storico? Per tutte le famiglie del centro storico che hanno problemi di spazio all'interno delle loro abitazioni per poter contenere il kit della raccolta differenziata, abbiamo dato la possibilità di poter ritirare un kit di pattumelle più piccole. Ora siamo in attesa che questo kit ci venga consegnato, quindi a giorni andremo a sostituire le pattumelle più grandi con queste più piccole. In alternativa, poi, si possono utilizzare anche solo due pattumelle, quelle più piccole. Una potrà essere utilizzata per il ritiro di tutte le frazioni secondo il calendario già prestabilito e l'altra potrà essere ritirata solo per la frazione del vetro. valuteremo poi di volta in volta, con appositi sopralluoghi, qual è la migliore soluzione per ogni tipo di famiglia. Essere attenti alle esigenze di tutti è il modo migliore per affrontare ogni tipo di cambiamento.